E no cari amici pescatori d'altura, questo non è un profumo al tonno, lo so che vi piacerebbe, ma è solo un modo interessante per diffondere un piacevole odore nella nostra macchina. Sì perché sono felice di presentarvi questi simpatici oggettini. Diciamo che varie aziende commercializzano profumi di questo tipo, noi abbiamo scelto la California Shands. In sostanza sono dei profumi un po' particolari perché sono ospitati in una scatoletta metallica, proprio come una scatoletta di tonno. All'interno di questa scatoletta cosa ci troviamo? Della spugna imbevuta di olio aromatico. Che cosa vuol dire? Innanzitutto la sfida di questa azienda è creare un profumo che abbia un concetto liquido, ma che ribaltata non faccia danni. Non so se qualcuno di voi è capitato che una gocciolina di profumo finisca sulle plastiche della macchina e fa un macello, scioglie tutto. Diciamo che la sfida di questa azienda è, metto il profumo, mi si ribalta anche, non succede nulla. Interessante questa cosa perché noi abbiamo questa spugnetta imbevuta che diffonde l'aroma all'interno dell'auto in maniera molto uniforme. Infatti la formula base olio è un po' più lenta in diffondersi, quindi non è come un profumo base alcolica che lo spruzzi e senti un odore fortissimo. È un odore che si diffonde in maniera molto molto lenta, ma che rimane persistente per più tempo. L'azienda dichiara due mesi. Ora io in tutta sincerità non vi posso garantire durate. Però vi posso dire che anche a distanza di più di due mesi senti la presenza che c'è qualcosa, poi dipende anche dall'aroma che hai scelto. Vediamo come si utilizza questo profumo. Che cosa fai? Stacchi la plastica nella parte superiore. Apri la scatoletta proprio come se stessi aprendo una scatoletta di tonno e rimetti la copertura di plastica. Sulla copertura di plastica abbiamo anche una levetta che ci permette di regolare la diffusione del profumo. Quindi abbiamo la possibilità di tenerla molto molto chiusa per farla durare di più e fare in modo che il profumo sia meno presente. Oppure aprirla tutta per sentirlo di più. Probabilmente l'olio evaporerà prima. E' interessante questi profumi perché li possiamo mettere in una zona nascosta, per esempio sotto il sedile, magari se abbiamo voglia con un pezzettino di velcro sul fondo della scatoletta, in modo che non lo vediamo, ma sicuramente lo avvertiamo. Provatelo ragazzi, fatemi sapere come vi trovate con profumi di questo tipo. Pian piano aggiungeremo degli aromi. Io ho scelto il Newport New Car, auto nuova. E la metteremo su questa Dodge Ram, che vedrete probabilmente in uno dei prossimi lavori nei nostri video sul nostro canale YouTube. In tantissimi ci avevate chiesto un profumo che ricordasse un pochino l'auto nuova. Lo testiamo e vi farò sapere più avanti come mi sembra. Fatemi sapere anche voi se questa è una soluzione che può essere interessante. Ciao, arrivederci al prossimo video. Ciao, ciao.